Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questo nuovo video Come al solito io sono Lego e quest'oggi mi trovo all'aperto per un video molto particolare Sapete io faccio l'unboxing di qualsiasi cosa ma questo oggetto non poteva essere contenuto in casa Purtroppo dentro casa non ci stava Di quale oggetto mai starò parlando In questo momento si trova qua alle mie spalle ma non lo potete ancora vedere Perché come ogni unboxing deve essere scartato E quindi è in garage per aprirlo e per farvelo vedere Poi insomma se non preoccupatevi di questa cosa orribile Ma il microfono che gli ho messo un coso fatto in casa per evitare i rumori del vento L'avete visto il cappellino? Molto bello, molto chic E questo qui il cappellino che ho vinto nel concorso dell'Hatcher grazie a voi Ecco comunque fate lasciando queste cose Oggi vi farò vedere un unboxing di qualcosa di enorme Non avete mai visto qualcosa di così grande Sto parlando del... Ah no, quello no Non si può vedere qua No comunque adesso vedremo Dietro queste porte che sono alle nostre spalle di cosa sto parlando Ed eccoci qua Ci vorrebbe qualche musichina che faccia... Crea un po' di suspense Quindi la farò io Questa non è una musichina che crea suspense effettivamente In ogni caso eccolo lì Un trattore Un Iseki 2140 Questo è l'oggetto che volevo mostrarvi quest'oggi Un recente acquisto di famiglia Diciamo mio padre ha appunto comprato questo trattore Perché abbiamo un terreno vicino a casa Un terreno che è agricolo E quindi abbiamo aggiornato i nostri mezzi Con questo trattore Ecco il cane che è immancabile nei miei video del secondo canale A quanto pare ha qualche mania di protagonismo Tagliamolo fuori Perché maledizione questo cane è sempre in mezzo effettivamente Appunto un Iseki 2140 Questo è il trattore Ecco là in fondo si intravede mio padre comunque tra l'altro Vi ho detto appunto Aveva un terreno agricolo Che è soprattutto un frutteto Però c'è anche un buon pezzo di terreno Che si può coltivare Quindi visto che molti di voi dicono Ma vai youtuber del cazzo che non fate una minchia tutto il giorno Ma andate a zappare la terra E sì lo faccio però Lo faccio con stile Con un Iseki Sì no Appunto tralasciando il fatto che molti di voi Reputano che una persona che faccia video E una persona asociale Che non ha alcuna vita E che non fa un cazzo nella vita Beh questo è ben diverso Perché comunque appunto Poi probabilmente questo Aprile Comunque quando sarà il tempo A seconda di quello che dovremmo piantare Lo passerò probabilmente nel campo Ma finché sarà la parte magari di Adesso qua vedete attaccata da una trebbia Però è la pala che abbiamo montato Poi c'è anche l'arato Quindi probabilmente Magari in futuro farò anche un video in cui Arrerò il campo E poi che ne so E poi pianterò patate Perché probabilmente quello che pianteremo Saranno patate e cipolle Non lo so dobbiamo ancora vedere cosa piantare di là Perché comunque Non è proprio il praticissimo E qua vi farò sentire la potenza Di questo motore Oh yeah Sì quel rumore E qui lo stavo un attimo provando Avete presente Natale Quando i bambini scartano i regali Oppure magari semplicemente Quando gli dà una caramella Che sono tutti contenti Oh che bello Io più o meno così E' una figata Perché quando ero piccolino Avevo il mio trattore Adesso non mi ricordo che marca fosse Comunque il trattorino che ha pedali Che sfrecciavo su e giù per il prato E intorno alla casa Con quello pedalando come un pirla E poi avevo anche la pala no davanti E quindi boh Mi divertivo un sacco Perché boh Quando sei piccolo Ci si diverte con poco Adesso che però Sono un po' più grandicello Anzi questo qui E' più che altro mio padre Che ha visto un po' più grandicello Per divertirsi Aveva bisogno di Quanto pare di un trattore Però è stato troppo bello Già mi sono divertito un sacco Per quanto abbia fatto un cazzo Nel senso che ho sollevato un po' di terra E poi dopo vedete Cioè l'ho un po' provato Ed è una figata Cioè è bellissimo E poi insomma Mio padre aveva già avuto esperienze Di trattori Perché lui da ciovine In cascina dai suoi zii Cioè andava a usarli Io non l'ho mai provati Ma è una figata il trattore Poi sono un po' scomodo Delle marce Perché ce l'hai sotto il culo Praticamente Però è una figata È una figata Sono contentissimo Cioè sapete Sono come un bambino Qui vedete Poi là in alto destra C'è la luce arancione Che si accende Non l'avevo accesa Ma tranquilli Dopo vi farò vedere Quella luce arancione Lampeggiante E niente Lo so un video che probabilmente Molti di voi diranno Ma che cazzo me ne frega Di questo video Lego Sinceramente Che cacchio mi fai vedere E vi faccio vedere Su questo canale Un po' di tutto Come ho sempre detto E qui appunto Stavo provando Un po' a distruggere il trattore In realtà Stavo cercando di Provare un po' tutto Ciò che ci era E niente Niente Ho voluto mostrarvi questo Comunque simbatico Così Di voi Dicolo Oh mio dio Lego Unboxi qualsiasi cosa Tu abbia sotto il naso Ed effettivamente è vero Volevo darvi la conferma di ciò Ho anche unboxato Un trattore Quindi penso dopo L'unboxing di un trattore Nulla mi potrà mai fermare Ah si magari Visto che è un unboxing Dovevi dare le caratteristiche Tecniche Del motore Del peso Ma non ce l'ho voglia Sinceramente C'ho il libretto di là Con tutti i dati Ma sinceramente Non ho la minima intenzione Di farlo Anche perché non ve ne frega Assolutamente nulla Più vi interessa sapere Perché un pirla Su youtube Faccia un video del genere Però ragazzi È una figata pazzesca E quindi finalmente Quando qualcuno mi dirà Ma va a lavorare Va a zappare la terra Io gli dirò Va a vedere quel cazzo di video Sul secondo Cazzo di video no Spero Quel bel video Sul secondo canale Così Giusto per Far capire Che noi youtuber Non facciamo solamente Video Tutto qua Ecco Quindi con questo video Ragazzi Io vi invito A lasciare un mi piace Perché come potete Non lasciare un mi piace Se avete visto questo video Del tutto fuori dal no comune A quanto pare O voi avete qualcosa di problematico Oppure ce l'ho io Probabilmente io Quindi lasciate un mi piace Se avete apprezzato questo video Un commento su Non lo so Se vi piace il trattore Ne volete anche uno voi a casa Che ne so Faremo un contest In cui metterò in paio Trattori Sicuramente no Comunque Questo è tutto E alla prossima E alla prossima E alla prossima